Buongiorno, sono Paolo Gallarati, già docente di storia della musica nell'Università di Torino e socio dell'Accademia delle Scienze. Vi parlerò oggi di un libro appena pubblicato, molto importante nella storiografia musicale. Segna la fine, siccome è uscito alla fine del 2020, segna appunto la conclusione dell'anno delle celebrazioni betoveniane, celebrazioni che sono state molto sacrificate dalla pandemia e che in un certo senso questo volume compensa, almeno in Italia. Si tratta della prima traduzione italiana del Beethoven di Paul Becker, un libro centenario pubblicato a Berlino nel 1912, ma sempre ripubblicato in Germania, come gli altri saggi di questo studioso. Chi era Paul Becker, che vediamo qui nella foto? Era nato a Berlino nel 1882 e morì a New York nel 1937, dove era in esilio per motivi razziali. Faceva all'inizio il violinista nella prestigiosa orchestra dei Berliner Philharmoniker, ma la sua vocazione lo portò ben presto verso l'attività storiografica e anche verso quella di critico militante, presso prestigiose testate giornalistiche. La sua produzione storiografica è molto ricca e molto importante. Il Beethoven è uscito nel 1912, nel 1921 pubblicò un volume pionieristico sulle sinfonie di Mahler, Mahler era morto da una decina d'anni, poi monografie su Offenbach, Wagner, Schrecker, studi di ampia visione storiografica, come quello sulla sinfonia da Beethoven a Mahler, una raccolta di saggi sulle trasformazioni dell'opera, una storia della musica come storia della trasformazione delle forme musicali, vari scritti sulla nuova musica, un termine da lui coniato, che poi è entrato nell'uso per indicare la produzione musicale posteriore al 1945. Sono volumi, curiosamente, quasi tutti disponibili oggi in edizioni moderne, tedesche e inglesi, il che ne dimostra l'attualità, la perdurante attualità. Ora la LIM, Libreria Musicale Italiana, pubblica questo volume betoveniano, ben conosciuto ai lettori di lingua tedesca, nella traduzione di Francesco Bussi con la revisione di Alberto Fassone, che ha curato anche la scrupolosa prefazione. Purtroppo manca l'indice dei nomi in questo volume, è l'indice delle opere, il che ne sacrifica l'agilità della consultazione. Non è un libro specialistico, anche il lettore comune, appassionato di musica, può benissimo leggerlo e comprenderne la tesi di fondo. La lettura è molto agile, affascinante per la profondità del pensiero critico di Becker e per l'interpretazione generale della figura di Beethoven, dell'opera di Beethoven, attraverso la lettura delle sue composizioni. Sono letture agili, sono letture ricche anche di metafore e di immagini che quando sfiorano la ridondanza sono state criticate dai critici formalisti. Quando invece sono strettamente aderente, della maggior parte delle volte che succede così, strettamente aderente alla forma, ai drammi interni della struttura musicale, sono assolutamente illuminanti per entrare dentro la forma e dentro la poesia della musica betoveniana. Becker è un maestro che risolve nel modo migliore quello che è il problema un po' di tutti noi scrittori di musica, cioè come tradurre la musica in parole. Inoltre, oltre alla lettura delle singole composizioni, affascina in questo libro di Becker la sua capacità teoretica, cioè la capacità di vedere le cose dall'alto e di giudicarle da una levatura superiore, che dimostra l'attualità dei suoi libri. Il libro è diviso in due parti. Nei primi capitoli presenta la biografia di Beethoven e questo è certamente l'aspetto più superato perché ci sono state numerose acquisizioni posteriori di dati e di documenti e di particolari. La seconda parte, invece, presenta le singole opere raggruppate per generi, sonate per pianoforte e concerti, sinfonie, lavori drammatici e ouverture, musica vocale, musica da camera. Con quale intento Becker si accosta ai singoli capolavori e come li descrive? La sua intenzione è quella di cogliere l'idea poetica che determina la costruzione e lo stile della composizione. Non dobbiamo intendere questa definizione in senso crociano come immagine dell'atmosfera dominante o dell'intuizione lirica o del motivo guida che il critico fissa sulla base di impressioni personali. No, l'idea poetica ha nella concezione di Becker una connotazione precisa. Non riguarda tanto il critico ma riguarda l'artista. L'idea poetica è infatti per Becker il principio genetico che in ogni singola composizione orienta le scelte formali di Beethoven. Gli pone problemi tecnici, gli pone problemi estetici che lui affronta con i risultati che sappiamo. La forma dunque è al centro della attenzione di Becker. Si propone, cito, di ritrovare nella forma il punto di partenza dell'artista al fine di poter capire alla radice, la vita, la meta, la direzione delle idee. Per questo il suo metodo ci interessa. E i suoi libri attuali, consapevolmente orientati nell'interpretazione generale del problema e nel particolare, sono pieni di stimoli e di giudizi illuminanti. Che tipo di artista era Beethoven? Essenzialmente scrive un musicista a programma, in misura maggiore di quanto si presuma. Becker ricorda che Beethoven diceva di avere sempre davanti agli occhi una immagine che lo guidava nel lavoro e cita una sua frase. Le mie creazioni vengono sollecitate tramite stati d'animo che per il poeta si trasformano, scrociano, tumultuano in parole, per me in suoni, finché finalmente mi si trasformano in note. Becker ricorda che vicino al titolo della Uverture per l'onomastico, Beethoven non scrive composta da Ludwig van Beethoven, ma poetata, gedichtet, da Beethoven. Becker parte quindi dalle note per risalire all'idea generale che orienta la composizione. Solo di un'idea però si tratta. Non di uno schema narrativo. I personaggi che hanno ispirato alcune composizioni bettoveniane, Napoleone nell'eroica, Egmont nelle musiche di scena nell'ouverture, Coriolano nell'ouverture, Leonore, protagonista dell'opera Fidelio e ispiratrice dell'ouverture che Beethoven ha composto per quest'opera, sono solamente delle idee. Non vengono descritte le loro vicende come delle vite d'eroe, come farà Strauss, per esempio, nel poema sinfonico Vita d'eroe. Sono delle idee, sono punti di riferimento morali, figure ispiratrici di forme musicali autonome, indagate e illustrate nei loro conflitti interni. Becker dunque parte sempre dalla forma, perché intende ritrovare nella forma il punto di partenza dell'artista, al fine, cito, di poter capire alla radice la vita, la meta, la direzione delle idee. Ossia la sua critica mira a spiegare il funzionamento delle forze interne che attraversano la forma musicale. Tenendo presente però un fatto, Beethoven scrive è anzitutto pensatore e poeta, solo in seconda istanza musicista. Non è mai tentato di subordinare le esigenze dell'idea a quelle del suono. Vi do ora un esempio del metodo critico di Becker, la descrizione iniziale della sinfonia eroica. Scrive, Il tema non si svela subito dispiegando pienamente il suo carattere eroico. Dopo i due violenti accordi in cui Beethoven condensa l'introduzione, il tema intonato dai violoncelli pare quasi soltanto un presagio titubante, l'ombra proiettata in avanti dall'eroe. È, in un certo senso, un prologo che denota i due aspetti contrastanti della natura eroica e offre quindi uno sguardo d'assieme, breve ma significativo, sul contenuto di tutto il movimento. All'inizio, che procede con passo sicuro e virile, segue un sorprendente rivolgimento d'atmosfera, la svolta dei violoncelli dal re al dodiesi, i fluttuanti effetti di sincope dei violini, la virata a sol minore, annunciano contrasti che immettono nei tratti energici della natura eroica risvolti elegiaci. Così Beethoven caratterizza il suo eroe. Il germe del conflitto è in lui stesso. Si confrontano pugnace e forza d'azione, riflessione lamentosamente rassegnata, combattendo sino all'esasperazione più lancinante. Voglio prendere il destino alla gola, aveva scritto Beethoven poco prima a Wegeller, quando le sue sofferenze all'udito minacciavano di paralizzare l'impulso creativo. Si percepisce qui l'eco di questa decisione? Come vedete, Becker mette in evidenza gli sbalzi plastici abbaglianti, direi, dell'invenzione beethoveniana, connessi però solo in forma dubitativa con fatti psicologici e sentimentali. Alcune definizioni colpiscono per la genialità dell'intuizione descrittiva. Per esempio, lo scherzo della sonata per pianoforte opera 31 numero 3 è, secondo Becker, un vero baccanale dello staccato. Lo staccato è un modo di attacco della nota che produce effetti particolarmente secchi di suono e che in questo finale precipitano gli uni sugli altri un po' come una grandinata. Il finale, sempre della stessa sonata, una sorta di tarantella tedesca, il che significa additare nel pezzo l'unione visionaria di un ritmo meridionale con l'espressione di forze demoniache tipicamente nordiche. Alcuni assiomi appaiono definitivi. A proposito delle ultime sonate pianistiche, in particolare l'opera 106, e della sfida posta da Beethoven ai limiti tecnici del pianoforte del primo ottocento, scrive mai la lotta dello spirito contro la materia ha trovato espressione sonora più impressionante. E qui tocchiamo un altro punto fondamentale di questa interpretazione. Becker vede Beethoven come un artista della utopia estetica. L'idea, infatti, deve assolutamente affermarsi senza considerare le sue possibilità di realizzazione tecnica da parte degli strumenti o della voce umana. Al violinista Schuppanzik, che gli faceva notare l'eccessiva difficoltà di un quartetto, Beethoven rispose «Crede che io pensi al suo miserabile violino quando lo spirito mi parla?» Ai cantanti che gli chiedevano di modificare la scrittura vocale della nonna sinfonia, rifiutò categoricamente ogni intervento. Quello che gli importava era la celebrazione in musica dell'idea della gioia, come tensione spasmodica verso una fratellanza ecumenica. E che questo forzasse le voci ad effetti quasi di raucedine non gli importava, la tensione esprimeva l'idea. Questa immagine di Beethoven utopista, pioniere nella ricerca di nuovi, straordinari e forse impossibili all'epoca effetti musicali, è data da un riflesso in un ritratto. Questa è l'edizione del Becker originale 1912 con ristampa del 1921-1922 e questo è il ritratto di Ferdinand Schimmel che fa vedere proprio significativamente questo sguardo di Beethoven perduto in mondi a venire. A proposito della sonata opera 106 e delle variazioni su un tema di Diabelli, scrive Becker, entrambi i lavori sono scritti per uno strumento che non è mai esistito e mai esisterà. È un universo sonoro del tutto astratto, quello nel quale conducono queste creazioni. sono solo immagini, ideazioni sonore con le quali esse giocano. Beethoven si serve solo dei segni grafici del linguaggio pianistico. Il vero suono fisicamente percepibile è una rozza, approssimazione dell'idea artistica che qui viene percepita solo più dall'orecchio mentale. I due lavori sono le creazioni più immateriali sinora prodotti dall'arte umana. è questo processo intellettuale di lotta dell'idea contro la materia sonora che spiega, secondo Becker, la lentezza della maturazione e quindi la relativa scarsità dei suoi lavori. Se pensiamo che Beethoven ha scritto solo nove sinfonie contro le 50 e più di Mozart e le 100 e più di Haydl si può comprendere che il numero non conta. Ciò che conta è il carattere universale che il genio dell'artista imprime alla sua produzione nella stupefacente varietà dei casi espressivi. Ci sono composizioni in cui l'idea abbiamo detto è esplicita e addirittura dichiarata come nell'eroica nella Nona Sinfonia ma molte altre in cui è solamente adombrata nella sottile varietà delle trasformazioni delle allusioni dei sottintesi dei chiaroscuri. Becker sa rendere attraverso le parole l'immagine dell'effetto e giunge persino a rendere non solo la descrizione del discorso ma la descrizione del suono. Per esempio cito il suono pianistico di Beethoven non ha niente della dolcezza che presto svanisce della grazia lusinghevole degli abili virtuosi viennesi pensa al Settecento. La sua cantilena emoziona risuona piena e sostenuta come se provenisse da un organo i suoni vi si fondono in una linea lunga ininterrotta come se si suonasse su uno strumento ad arco l'originalità del suo tocco evoca ombreggiature di suggestiva finezza la fantasia timbrica sconfina in territori orchestrali si ampliano le dimensioni non solo delle forme ma anche del puro spettro sonoro l'ampiezza prodigiosa del pensiero musicale bethoveniano determina una grandiosa trasformazione del suono pianistico a partire da punti di vista affatto diversi da quelli che poteva concedere la vecchia scuola e la descrizione di questo suono pianistico si concreta in una immagine delle mani di Beethoven quali si possono dedurre dai calchi in gesso massiccia muscolosa con dita corte e appiattite sulle punte che non arrivavano a prendere la decima la mano di Beethoven era poco adatta per natura alla fine grazia dello stile galante alla delicata cantabilità dell'esecuzione alla sua assai limitata e generica dinamica la tecnica di Beethoven determina sin da principio una ben più dirompente risonanza non è amabile vagheggiamento bravura civettuola bensì esuberante sgorgo di energia non ondeggia e non scivola scalpita e rotola questo modo di suonare era frutto di un estro improvvisatorio a cui Becker dà molta importanza per comprendere come l'incandescenza di questo raptus inventivo viene poi plasmata dentro la uniformità e l'euretmia della forma fissa così perfettamente la posizione di equilibrio di Beethoven tra classicismo e romanticismo ma non si pensi a una visione univoca dello stile betoveniano catalogato esclusivamente sotto l'etichetta della forma no Becker sa penetrare nel regno soffuso dell'ambiguità delle sfumature misteriose di quella particolare fraternità tipicamente tedesca con la notte e con la morte che troviamo in alcune pagine betoveniane ma in Beethoven c'è anche l'umorismo e l'umorismo consiste in una costante espressiva che troviamo dalle prime alle ultime composizioni e che Becker descrive magnificamente cogliendo questo altro aspetto meno vulgato della immagine di Beethoven quando descrive l'abbandono del minuetto settecentesco che era di prammatica nelle forme della sinfonia del quartetto scrive al suo posto al posto del minuetto subentra una forza della natura scatenata e tempestosa che non sa più nulla di restrittive indicazioni ritmiche ma che talora vaga irrequieta barcollando selvaggiamente talora affonda in fosche passioni talora si innalza in vulcanici accessi di incontenibile gioia talora invece osserva il lato nascosto delle cose con superiore umorismo che dissolve lo sconvolgente pathos in leggiadri ritmi di danza non è più una danza umana soggetta principi di movimento convenzionali spiriti elementari primordiali conducono la ridda liberato da ogni ricordo di movimento corporale e dal tipo tradizionale di svago di società e rompe dal minuetto dei tempi andati il componimento umoristico musicale lo scherzo betoveniano alla fine del volume l'universo umanistico che Beethoven rappresenta appare dominato da una idea portante quella della libertà ma non si tratta di una libertà sfrenata ma una libertà conquistata attraverso la lotta contro la sventura cioè la sordità e fondata su basi morali il che porta Beethoven a scorgere nella vita malgrado tutti i dolori scrive Becker un bene pregevole prezioso da possedere da difendere da potenziare fino all'estremo delle forze che si posseggono è così bello vivere la vita mille volte scriveva Beethoven a Wegeller implicitamente dandoci la chiave per comprendere l'esito positivo che hanno quasi tutte le sue composizioni c'è dunque un idealismo grandioso e trascinante che colloca la musica di Beethoven nella storia della cultura occidentale essa traduce in suoni scrive Becker la trasfigurazione musicale delle idee di Kant di Schiller e degli spiriti a loro affini un'illustrazione delle grandi lotte morali per la libertà di quest'epoca questo esprime il supremo poeta della musica strumentale la grande epoca idealistico tedesca idealistico classicistica della vita intellettuale tedesca trova la sua ultima espressione musicale nella musica strumentale idealistica che rimuove ogni legame con la parola ho cercato di illustrarvi le linee guida di questo volume che propone la sua interpretazione con estrema riservatezza consapevole che il suo il suo saggio il suo scritto il suo testo si inserisce in un preciso contesto storico siamo nel 1912 l'ottocento scrive Becker riconobbe Beethoven quale romantico oggi noi che anelliamo al superamento del romanticismo abbiamo bisogno di una visione spiritualizzata della natura di Beethoven ma Becker sa anche che a nessuna generazione è concesso dare una illustrazione esauriente della produzione betoveniana e che la grandezza di un artista sta proprio nel permettere a ogni epoca di applicarsi a nuove indagini a nuove interpretazioni sulla sua natura e queste affermazioni con cui conclude il volume la dicono lunga sull'agilità del suo metodo critico sulla sicurezza ma non sulla sicumera dei suoi giudizi e sull'intelligenza che garantisce alla critica di mantenersi attuali negli anni grazie